perché è stato fantastico questo incontro e lo è ancora con dei grandi professionisti ed è il connubio di tanti professionisti insieme che ti permettono di avere successo giornata corsi pieni è stata una giornata entusiasmante formativo molto molto interessante lo consiglio davvero a tutti è una giornata veramente bella tanti elementi tante cose da belle da sapere strategie fantastiche innovazioni e evoluzione del nostro mondo del ballo grazie tante perché è sempre un successo è sempre una grande occasione poterlo bellissimo intervento di sergio come è stato solo un'ora ma le prime impressioni sono davvero ottime sono tanti gli spunti che sergio condivide sempre gratuitamente ragazzi fate come me sarà tutto quello che ci ha insegnato sergio e anche miriam ci ha cambiato la vita vero sarà certo che sta mi chiamo luca gherardi giornata interessantissima molte cose utili sono sempre esperienze da da fare da provare serve moltissimo a aggiungere competenze al nostro lavoro stiamo avendo delle informazioni interessantissime sto ricevendo un sacco di info sto imparando moltissime cose bellissima esperienza oggi interessantissimo sergio grande comunicatore interessantissima sia a livello motivazionale sia a livello tecnico ci ha dato tanti strumenti siamo felicissimi di aver partecipato perché abbiamo tutta l'intenzione a settembre di ripartire con la nostra scuola alla grande e dove ci stanno dando un sacco di informazioni utili per poter far ripartire e far migliorare la nostra le nostre scuole di ballo tutto questo in maniera totalmente gratuita ed è qualcosa che oggi come oggi non fa soltissimamente nessuno fatto un incontro veramente interessante formativo e ho capito quattro cinque cose da applicare veramente già da subito grazie sempre grazie a tutti